Dopo le forti turbulenze generate soprattutto dalla prima ondata della pandemia, la filiera del grano duro e della pasta sembra tornare ai livelli pre-Covid, con una produzione e un trend di consumi che risultano in linea con quelli del 2019. Anche il mercato è in via di normalizzazione con un sostanziale allentamento della pressione sui prezzi che aveva caratterizzato le ultime due campagne. È questo il quadro che è emerso dal Durham Days 2021, l'evento che ogni anno chiama a confronto tutti gli attori della filiera per fare il punto sulle previsioni della campagna e che anche quest'anno si è svolto in via telematica. Rispetto alle scelte di acquisto dei consumatori prosegue l'attenzione verso prodotti di qualità e per la pasta 100% made in Italy. Passando al mercato, nel 2021 la produzione di grano duro è stimata in crescita sia a livello nazionale che a livello mondiale.